Buonasera a tutti, qui è TV Telepesca, Telepesca di Fano. Di umare, di umare. Cuda, cuda, cuda. Com'è? La fa adesso? Sì, sì, vai. Sì, Simone. Ma vediamo cosa ha portato il pescato della coppia Binotti-Tomassini. Aspetta, Simone. Sì, ti prendi, prendi. Cosa vuol dire lei? Niente. Ancora è viva, guarda, 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 guarda. Ma vediamo il peso. Ah, il peso. Totale. Peso totale. Prima il peso totale, possiamo vedere la bilanza. Oh! Due chili, tre cinquanta. Oh! Guardiamo la più piccolina, che non porta niente. E infatti è ancora 2150. Guardiamo quella di vino. Eccola, quella lì, 750. Quasi 750. Un chilo e quattro e cinquanta. Un chilo e quattro e cinquanta. Sì, Simone, vai a vedere la guardia. Sì! Ascoltare. Allora, io adesso questo e adesso qui. Domani le capiamo. Sì. Poi dopo chiamiamo Simone. Vogliamo chiamare Simone o vogliamo chiamare l'altra gara del pescatore per fare i soldi? Sì! Io per la cena per lui lascerei queste qua. Che se ne prendiamo cinque o sei a testa, queste ne vediamo. Sì, ormai abbiamo trovato il metodo. Ormai non posso rivelare il metodo. No, 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 no. Comunque è il metodo Tomoscini? MONE! Sì! Il metodo Tomoscini? Salve. Salute a Mone. Ciao, Mone. Salve. Dai Mone, finiamo con questo primo piano. Ti capito, Mone? Sì!